Ciao, io sono Selene di Un Punto alla Volta e oggi andremo a realizzare insieme questa maglietta qui dall'ultimo Burda Easy. Il modello è l'1A ed è quello a maniche corte, però trovate anche la versione a manica lunga sulla rivista e il tutorial è praticamente lo stesso. A differenza della classica t-shirt, questa è una maglietta con maniche raglan, il che la rende molto molto semplice da cucire anche e soprattutto a chi ha l'inizio. Il tessuto richiesto è comunque elasticizzato quindi sicuramente è più semplice da cucire per chi ha una taglia cuci ma proprio per rendere il tutorial molto molto semplice da seguire anche a chi ha gli inizi e magari non dispone di una taglia cuci vi mostrerò come cucire l'intera maglietta semplicemente con la macchina da cucire. Questo è esattamente uno dei cartamodelli che io chiamo d'archivio perché è un capo molto basic che voi potete anche conservare poi nel tempo per poterlo replicare infinite volte e non sembra mai la stessa maglietta perché potete anche andare a giocare con le stoppe. Come nel mio caso io ho utilizzato un tessuto in tinta unita per la manica, le maniche e il collo e invece un tessuto a righe per la parte centrale. La potete realizzare anche tutto in un unico tessuto oppure giocare come me con le fantasie e abbinare anche diversi tessuti. Come vi ho detto all'inizio il modello è veramente facile da realizzare e il tutorial lo potete seguire anche per realizzare la versione a manica lunga, vi lascio il video. Questo è il foglio del cartamodello, noi faremo la versione 1A ma ci sono appunto altre due versioni. Per ripassare il cartamodello utilizzerò questa che è la carta velina di burda viene in confezione con cinque foglie all'interno. Quindi vado a ripassare tutte le parti del cartamodello e per le linee dritte mi aiuto con la squadra. In questo modo sono molto più veloce e più precisa anche, mentre per le linee più curve vado semplicemente a mano. Poi segnerò anche tutti i riferimenti, quindi riporto sulla carta velina tutti i riferimenti, segno anche la quantità di pezzi che devo tagliare per quel singolo pezzo e a che parte del cartamodello si riferisce. Come tessuto vado ad utilizzare questo jersey di cotone di Nella Tessuti e associo appunto le righe con la fintonita. Vado a tagliare con il cutter tutte le parti del cartamodello tenendo i margini di cucitura. Ottengo la parte dietro e la parte davanti, le due maniche tagliate speculari e questo nastro qui che è il nastro che useremo per il collo tagliato nel ripiego della stoffa. Utilizzerò anche un'interfodera termadesiva, questa è la 609 di Freudenberg ed è fatta apposta per i tessuti elasticizzati. Da una parte c'è appunto la parte termadesiva mentre l'altra è liscia, quindi ritaglio delle strisce che andrò a applicare con il ferro da stiro sugli orli, quindi sia sulla parte davanti che la parte dietro e anche sulle maniche. In questo modo riesco ad appiattire la stoffa perché sennò il jersey tende anche un po' ad arricciarsi nelle parti inferiori e riuscirò anche ad avere una cucitura più stabile per quanto riguarda appunto gli orli della maglia e delle maniche. Poi cominciamo ad assemblare il capo, quindi al dritto contro dritto vado ad unire i laterali, faccio coincidere le tacche della vita in maniera tale da essere sicura poi che la vestibilità del capo sia perfetta, appunto gli spilli appunto su un laterale e poi anche sull'altro e poi andrò a fare le mie cuciture. Per fare le mie cuciture utilizzerò un ago da jersey che è fatto apposta per tessuti elasticizzati perché la punta è leggermente arrotondata e passa bene tra le maglie. Non serve un filo elasticizzato, infatti userò un semplice filo cucituto di gutterman, questo qui è 100% poliestere. La cucitura che andrà a fare è uno zigzag basso, in questo modo riesco a mantenere l'elasticità del tessuto. Questo è il risultato, come vedete se vado a tendere il tessuto si tende insieme anche il filo e quindi non si spezza. Per rifinire i bordi invece ho scelto un punto sovraggito della mia macchina da cucire, in alternativa potete utilizzare anche un punto a zigzag. Poi vado a cucire le maniche, quindi al dritto contro dritto faccio combaciare i laterali, appunto gli spilli e andrò a fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto per la maglia. Quindi farò prima una cucitura a zigzag bassa e poi rifinirò il bordo. Poi vado ad infilare sempre al dritto contro dritto le maniche all'interno della maglia. Faccio combaciare prima le due cuciture che abbiamo appena fatto, poi mi aiuto con le tacche di riferimento per continuare ad appuntare le maniche alla maglia, prima da un lato e poi anche dall'altro. Anche in questo caso andrò a fare prima una cucitura a zigzag bassa per unire i pezzi insieme e poi rifinirò contemporaneamente i due margini delle due stoffe con lo stesso punto che ho usato prima. Poi vado a chiudere il collo, lo posiziono in questo modo al dritto contro dritto, quindi lo piego a metà, le due estremità le fisso insieme con uno spillo e farò una cucitura sempre a zigzag basso per unirlo. Poi lo vado a piegare in questo modo rovescio contro rovescio e appunto gli spilli tutti intorno. A questo punto andiamo ad unire il collo alla maglia e praticamente la cucitura sarà il nostro centro dietro della maglia. Vado a piegare in questo modo il nastro per andare a trovare il centro davanti del mio collo e poi farò la stessa identica cosa con la maglia, per cui vado a piegare in questo modo la parte dietro e vado a trovare l'esatta metà, questo sarà il mio centro dietro e vado a segnare con un pennarello, questo è un pennarello prima ad acqua, quindi va via poi con l'acqua. La stessa cosa faccio davanti, quindi vado a piegare a metà e trovo il mio centro davanti. Poi riprendo il naso e la cucitura che unisce il naso sarà il mio centro dietro, quindi lo vado a posizionare e a far coincidere con il segno del centro dietro della maglia e appunto insieme il collo e poi mi sposto davanti e appunterò il centro davanti del collo facendolo coincidere con il centro davanti della maglia. A questo punto il collo è leggermente più stretto rispetto al giro dello scollo, quindi per andare ad appuntare gli spilli tutto intorno al collo vado a tirare leggermente in modo da raggiungere diciamo la dimensione del collo e quella della maglia. Appunto tutto intorno farò la mia cucitura, sempre un punto a zig zag a circa un centimetro dal bordo e poi il punto quello per rifinire tutto intorno. Questo è il risultato una volta applicato il collo con il farro da stiro mi sono aiutata per abbassare il margine di cucitura verso l'interno e adesso andremo a fare una cucitura zig zag lungo tutto il collo in maniera tale da fermare questa parte qui verso il basso. Quindi la cucitura sarà subito sotto all'attaccatura del collo, questo è il risultato finale, è una semplice cucitura zig zag. Per l'orlo invece vado a ripiegare verso l'interno la stoffa una sola volta e appunto gli spilli al dritto. Farò una cucitura al dritto, sempre a zig zag come quella che abbiamo appena fatto per il collo, e la farò esattamente sulla piega dell'orlo, per cui dove si va ad incontrare il doppio strato di tessuto. Faccio questa cucitura al dritto e mentre cuccio mi aiuto con il dito per sentire dove va a crearsi appunto lo scalino del doppio strato di tessuto. In alternativa, se volete sentirvi un po' più sicuri, potete fare anche la cucitura al rovescio, però vi consiglio di provare. La stessa cosa la faccio anche per le maniche, quindi farò un punto a zig zag appunto dove si incontrano i due strati di tessuto, anche qui ripiegato verso l'interno di una sola volta per creare gli orli. Questo è il risultato finale, come vedete comunque l'elasticità del tessuto viene mantenuta grazie al punto a zig zag e il risultato comunque è molto pulito. Questo invece è il risultato finale della maglietta indossata. Quindi avete visto, questa maglietta è veramente semplice da realizzare, infatti se andrete a cucirla anche voi, taggate assolutamente Burda sui social per farci vedere le vostre creazioni. Giù in descrizione trovate i link per seguire Burda sui canali social e anche tutti i materiali utili per realizzare la vostra maglietta. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!